La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Simonetta Saliera, oggi a confronto con i sindaci del territorio piacentino nella sala consigliare di Corso Garibaldi, suona ancora la carica da avere unioni che escano dalla carta e si rafforzino nei fatti. Da quanto la Saliera aveva convocato l'incontro di oggi, alcune settimane fa, sono cambiate alcune cose. Innanzitutto, il presidente della Regione, Vasco Errani, condannato per la vicenda a terre emerse, ha annunciato le sue dimissioni, aprendo una fase urgente di transizione che lascia numerosi interrogativi su tante partite aperte in viale Aldomoro a Bologna. come appunto quella delle unioni, oggetto di un tour de force nelle province da parte della Saliera. Secondo, si sono allungati ancora i tempi per la riforma del rio delle province. Il termine inizialmente previsto per l'8 luglio per la riunione della conferenza unificata Stato-Regione, la quale avrebbe dovuto trovare un primo accordo sul trasferimento delle funzioni, non è stato rispettato ed è slittato, creando l'ennesima situazione di stallo. I sindaci hanno chiesto chiarezza, certezze e soprattutto risorse per far funzionare davvero le unioni. Qual è il monito che vuole dare ai sindaci? Di tenere botta e soprattutto, entro l'anno, di mettere insieme il più possibile funzione per essere pronte alle riforme nazionali che prevedono il superamento delle province. Per quanto riguarda le elezioni del nuovo Consiglio provinciale, si parla della data del 28 settembre, quindi è praticamente domani l'altro, però le unioni per funzionare hanno bisogno di risorse. Comunicherò anche le risorse che vengono date alle unioni che hanno già conferito funzioni e stanno già lavorando. Dopo le annunciate di missioni di Errani, la saliera ha auspicato si apra una fase di transizione il meno dolorosa possibile. Stiamo appunto completando tutti gli atti in modo da non lasciare nessuna incertezza e che ci sia una continuità sia dal punto di vista del bilancio, dal punto di vista della programmazione dei fondi strutturali con l'Europa e poi entro i tre mesi previsti dalla legge si andrà al voto. Rispetto la volontà del Presidente e proprio per rispettare al massimo la sua volontà stiamo cercando di fare tutto ciò che è necessario perché il governo della regione non si interrompa, soprattutto in questo momento di grande difficoltà. Grazie a tutti.